mi spinge anche il vento la telecamera fa onde incredibili, guardate dove sono queste onde, sono circa 300 metri credo dalla riva e questa costa pian piano si sta sbriciolando, questa delle curve di capo supero, immagino verso l'old america, adesso vado a vedere, spaventoso il mare davvero, è spaventoso ragazzi con dei venti così forti, il 31 dicembre si poteva dire che eravamo quasi perragosto ma poi il 1 gennaio è capito tutto quindi andremo più avanti a filmare ragazzi per me stanno riscando pure la vita questi ragazzi oggi, con il mare così impietoso ognuno è responsabile della sua vita qui il mare è proprio sotto la strada, ci sta devorando parecchio spazio tra la strada, la strada 18 tra la strada 18 e la battigia grazie grazie